Sì, abbiamo sentito l'esigenza di convocare questa conferenza stampa dopo le ultime battute che sono più che battute le barzellette che abbiamo sentito in Consiglio Comunale da parte del centro-sinistra che ancora una volta ha accusato e buttato fango sul centro-destra, ha giustificato la propria sete di poltrone e di potere dicendo che il centro-sinistra resta al proprio posto per una sorta di interesse per la città in quanto nel caso in cui si tornasse alle urne con ogni probabilità ad amministrare la città si ritroverebbe il centro-destra che per la sinistra continua a rappresentare la madre di tutte le disgrazie per Reggio Calabria quando in realtà a nostro modo di vedere e non soltanto a nostro modo di vedere la madre di tutte le disgrazie per la città è proprio il centro-sinistra non lo dico io, non è un discorso di parte, lo dicono i numeri abbiamo fatto uno studio proprio al fine di verificare quali sono stati i benefici o i danni che la città ha avuto con l'amministrazione di centro-destra e quali sono stati i danni o i benefici che la città ha avuto con l'amministrazione centro-sinistra i numeri si sono espressi in modo chiarissimo le fonti che abbiamo preso sono delle fonti terze quindi attendibilissime nessuno domani potrà sbuggiardare i dati che andremo a dare oggi in conferenza stampa e sono dei dati inappellabili sia se parliamo del numero di residenti, se parliamo di aeroporto se parliamo di nuove aperture di attività commerciali e di cessazioni di attività commerciali sia se parliamo di ambiente e servizi, di classifiche redatte dal sole 24 ore ovunque andiamo troviamo dei numeri che sono nettamente a favore del centro-destra e catastrofici per il centro-sinistra ne dico uno per tutti sul numero dei residenti con il centro-destra in controtendenza con tutto il territorio nazionale Reggio Calabria in dieci anni dal 2002 al 2011 è cresciuta di 6.000 unità viceversa dal 2014 al 2023 nel decennio amministrato dal centro-sinistra Reggio ha perso qualcosa come 14.000 abitanti cioè come se domani mattina scomparisse tutta la popolazione di Scilla e di Bagnara messe assieme Reggio Calabria in giro Reggio Calabria in giro